Voto unanime per il sì dell'Arsa al disegno di legge sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo presentato dal deputato regionale del PD Franco De Domenico, quale primo firmatario. L'aula ieri poveriggio ha approvato il disegno di legge regionale per il contrasto all'odioso fenomeno che interessa giovani e giovanissimi allineandosi al resto del paese. La legge dispone alla creazione della consulta regionale composta da esperti, rappresentanti delle istituzioni educative, della sanità di base, delle università, del mondo dello sport e dell'associazionismo. E la costituzione nelle asp di un ambulatorio ed uno sportello di ascolto dedicato alla prevenzione al contrasto di bullismo, cyberbullismo, sexiting e della cyberpedofilia. Obiettivo della legge è la diffusione della cultura, della legalità e del rispetto della dignità personale e predisporre interventi per la tutela dell'integrità psicofisica dei minori, in particolare a scuola e nei luoghi di aggregazione giovanile. Campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie, promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e più in generale del web, con particolare attenzione al fenomeno del revenge porn e alla diffusione di immagini e video sessualmente espliciti tra gli strumenti previsti. Ma anche corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale, l'attivazione di progetti di rete, l'organizzazione di corsi, programmi di assistenza, di gruppo di supporto per i genitori, l'attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, ovvero di un percorso di sostegno con il gruppo classe, in cui si sono verificati atti di bullismo, cyberbullismo, cyberpedofilia e sexiting, nonché di sportelli di ascolto negli istituti e nelle scuole. Grazie.